Guarda 1 S.p.A. è un'azienda che opera in ambienti di servizi pubblici dal 1976, è un'azienda totalmente pubblica, è partecipata da una trentina di comuni della sponda gardesana bresciana prevalentemente e si inoltra fin dall'entroterra del Bresciano fino alla bassa Bresciano a Manerbio. Si occupa dei servizi soprattutto del ciclo idrico in prevalenza dall'inizio, occupandosi del collettamento e depurazione dei reflui del Garda Bresciano. Questo impianto tra i più importanti a livello europeo riesce a collettare un equivalente di circa 150.000 abitanti e permette il reinserimento in ambiente di circa 30 milioni di metri cubi all'anno di acqua trattata. Oggi questi nostri servizi sono supportati da sistemi puntuali di telecontrollo e di governo degli impianti che permettono anche una puntuale efficacia dal punto di vista della qualità dei servizi, un puntuale intervento di manutenzione, un puntuale intervento anche nella verifica esatta dell'efficienza dei sistemi. Il depuratore di peschiera del Garda tratta le acque reflue provenienti dalla sponda bresciana e dalla sponda veronese del lago di Garda. Tratta circa 90.000 metri cubi al giorno nel periodo invernale, può arrivare a trattare 150.000 metri cubi al giorno nel periodo estivo. È un impianto di depurazione biologico, ha uno schema classico, quindi ha un reparto ossidativo, un reparto di sedimentazione dei fanghi, dei trattamenti preliminari e dei trattamenti terziari. Ha una potenzialità di progetto di 330.000 abitanti equivalenti, è stato di recente fortemente rinnovato, ci sono stati degli interventi di revamping importanti con degli investimenti anche importanti per l'ordine superiore ai 40 milioni di euro negli ultimi 5-6 anni. Ci sono circa un'ottantina di stazioni di sollevamento dislocate sulle due sponde, sulla sponda bresciana e sulla sponda veronese del lago di Garda e così come l'impianto sono anch'esse tutte telecontrollate. Il sistema di telecontrollo è collegato direttamente ai PLC di campo, ai processori logici programmabili di campo, con l'elettronica che è deputata in ogni sezione impiantistica al controllo. Quindi il telecontrollo ci permette di sapere in tempo reale il valore di tutte le variabili di funzionamento dell'impianto. Non solo, ci permette anche di impostare delle soglie virtuali di allarme su queste variabili in modo da essere avvisati se vengono raggiunti dei valori minimi o dei valori massimi. Inoltre il sistema è anche collegato a un sistema di allarme telefonico per cui di nottetempo oppure il sabato o la domenica negli orari non presidiati viene avvisata una squadra di reperibilità che è in grado di intervenire prontamente sull'impianto per risolvere l'eventuale problema. Concezione di telecontrollo in grado 1 nasce e prende piede maggiormente verso la fine degli anni 80 dopo un percorso di crescita e di acquisizioni da parte dell'azienda con la gestione soprattutto della depurazione e del collettamento delle acque reflue per quanto riguarda tutta la sponda occidentale del lago di Garda. Sul finire degli anni 80 subisce una trasformazione diventando poi prendendo il nome di Garda 1 SPA e con l'acquisizione di vari servizi che vanno dalla raccolta rifiuti alla gestione del ciclo idrico alla gestione anche di centrali GPL e non di ultimo per quanto riguarda anche tutto il mondo delle energie rinnovabili. Grazie a tutto questo sviluppo e integrazione e implementazione l'azienda è riuscita in questi anni ad ottimizzare e ad abbattere notevolmente i costi di gestione, di energia, di interventi in reperibilità garantendo maggiormente tutta una serie di servizi contemplati dall'azienda. Nella presa dell'acquadotto di Manerba qua in località Pisense abbiamo una RTU su Frel che gestisce la totalità dell'automazione del potabilizzatore che appunto prende acqua dal lago, la rende potabile e la distribuisce in tutta la rete del comune di Manerba. In maniera molto semplice ci mette a disposizione dei tool per l'automazione in maniera tale da poter gestire noi in loco direttamente il comando di pompe e valvole. Qua per esempio gestiamo anche i cicli di manovra dei filtri quando si devono pulire, quando devono filtrare, quindi tutto gestito internamente da noi, sia per la capacità di avere dei vettori di comunicazione con altre RTU situate nella zona, come in questo caso via cavo al serbatoio e a un'altra stazione di presa o comunque via chiamate GSM per controlli tra altri intercity, sia come comunicazione soprattutto con protocollo Modbus con altre apparecchiature che precedentemente erano installate in sito. Questa applicazione di Manerba è l'esempio classico di come un gestore con le reti Usofrel può rendersi autonomo nella gestione dei propri impianti. Le reti Usofrel offrono semplicità di configurazione, un'alta affidabilità e la possibilità di fare comunicazioni su diversi vettori in modo molto semplice e veloce. Grazie a tutti!